Oh signori stanno ritornando tutti quanti alla base, chi è a destra chi è a sinistra, tu, chi ti viene dietro, chi ti viene davanti qua, noi finiamo di fare gasolio, come mai si è spenta? Scappiamo subito, subito dobbiamo scappare, ok signori il motivo per cui bisogna scappare subito è che se passano più di 10 secondi da quando stacca la pompa poi il distributore spegne tutto va bene e quindi per non farlo spegnere e continuare a fare il rifornimento alla bestia dobbiamo subito pigiare il rifornimento, dobbiamo subito dare pressione, se stacca la pressione per più di 10 secondi si chiude e bisogna andare in un'altra volta con la chiave rifatto da capo chilometro e tutto quanto quindi tutte le volte da quel serbatoio lì devo fare il giro tutto intorno al camion e venire qui subito ai rifornimenti, si spegne la pompa e devo fare tutto a capo adesso finiamo di fare il gasolio agganciamo il nostro semi di morchio per andare lunedì a verona ed è passata un'altra settimana e vi ringrazio tutti gli iscritti e a tutti quanti ragazzi grazie 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 per la visione Ecco lasciamo il camion lì così un po' di traversa come ci pare a noi per adesso Portiamo i documenti di scarico, il telefono e il caricabatteri lo lasciamo da loro per 20 minuti e mezz'ora Il tempo che ci servirà per scaricare Intanto si ricarica il telefono così posso fare delle riprese anche lì alla casa del freno Anche se no non mi dite niente E ragazzi come al solito se apprezzate il mio lavoro se apprezzate il fatto che dopo 12 ore di lavoro 15 ore di lavoro Vi registro, vi edito tutto e ve lo butto là su youtube creando un contenuto corto Ma in modo da che vi faccia passare 10 minuti di leggerezza 10 minuti di freschezza insieme a me capito? Ragazzi iscrivetevi se no vengo lì vi do un pugno nel naso va bene? E anche nella pancia e attivate anche la campanina cornuti sembrava che fosse andato via al caldo invece è ritornato un'altra volta signori vabbè poco importa tanto noi siamo lavoratori grandi lavoratori oserei dire quindi adesso visto che siamo lavoratori dobbiamo fare anche un po' di manutenzione al camera ragazzi e questa è la cosa che mi piace la mente delle ditte serie quando c'è un problema gritti dal meccanico dall'elettro auto dove serve serve gommista per questo io adoro le ditte serie ragazzi soldi precisi e puntuali e se c'è un problema si risolve subito i trasporti pesanti che avete appena visto dicono 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 che siano tra le migliori aziende in italia a livello di soldi a livello di camion di semirimorchi dici che sono fra i migliori sicuramente fra i migliori però non so se è vero ora hanno aperto anche a Lucca hanno aperto una filiale ho capito che stanno aprendo un piazzale un ufficio chi lo sa in futuro chi lo sa il futuro che lo sa in futuro a 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 mentre aspettiamo il nostro signor luca abbiamo così tono e piselli questi sono buonissimi tono e piselli non le ho mai assaggiate ma suppongo che siano buonissimi va bene poi e abbiamo questi funghi qui che penso che stanno facendo altri funghi nel frattempo dentro loro stanno crescendo altri funghi perché tipo sono tipo due meschili comprati addirittura me li sono portati via da cucco autotrasporti va bene quindi sicuramente un bel funghi ce l'ho però di solito la roba sotto olio è difficile che vada male va bene poi un bel gustellino 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 anche quelli che dei lidl sono buoni quelli dei lidl ragazzi sono migliori che ci sono perché i lidl sono tedeschi e sappiamo bene che fanno dei gusti spettacolari va bene fiocchi di latte ragazzi questi ve li consiglio alla posto della mozzarella perché la mozzarella dopo due giorni è da buttare via anche se lo tiene in frigo si indurisce e non è più buona invece questi qui caldo freddo non li interessa proprio va bene i fiocchi di latte poi fanno anche bene all'intestino lo usano anche i palestrati quindi è un bel ingettivo dai un po' di pubblicità lì fa sempre comodo poi sempre un pochino di pane integrale un po di palino di questo integrale il panino integrale questo qua sempre quello dei poveri come sempre va bene e poi basta così acqua e sciroppo quello pieno di zucchero che fa malissimo va bene però siccome tanto non prendiamo l'alcol non beviamo l'alcol allora è giusto farci del male come 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 tutte le persone normali bisogna insomma avvelenarci una volta ogni tanto va bene non dobbiamo stare troppo in salute va bene quindi ora ci mettiamo a mangiare ragazzi e aspettiamo Luca che ci poi ci viene a sistemare il problema ecco assaggiamo per la prima volta questo tono ai piselli vediamo un po' facciamo la reaction ai toni ai piselli intanto devo dire che c'è un olio molto rosso dentro sicuramente c'è olio e pomodoro dentro non è male cazzo questa è roba da operare di fabbrica ragazzi vi giuro non è male tono ai piselli penso che diventerà il mio secondo cibo preferito dopo le sarmare penso eh anche perchè il menù è quello quindi carica il telefono si e basta se io ti metto no a volte ci carico anche a monopattino comunque ci vuole la pressa questa qui dai giriamo troppo intorno mi serve questa pressa qui a me per questo lo uso ma comunque sia va bene questo qui o no se devi ricaricare a monopattino non ti posso mettere quello che volevo io a volte no ma mi serve anche quello che vuoi mettere te capito che è comodo lo stesso penso capito che dici te è che questo qui lo devo dimontare appena mette un fusibile la scopia aspetta leva aspetta leva leva la tannica di qui io c'è anche qui vai no però dico questo qui io l'ho già fatto su un altro man sì e questo qui era quella pressa di diciamo che l'avevo messo a me basta che mi vuole anche funzionare ho voluto mettere l'usb qui questo si e dall'altro lato mi sembra uguale non mi ricordo è stato facile tutto sommato dai mi accanto a vittorio mi dice no ho sempre un cazzo di mano questa ma è saltato fino a radiosanto andrò che vuol dire le batterie ci vuole la mano un po' lì per quello si può fare si e poi dopo scopriare lo stesso dentro e che vuol dire? ma ora l'ho staccato devo capire perché vuoi che ti stacca la batteria principale? si si stacca anche da su no di qua no ma è facile staccarli no attacca quando ti dico attacchi l'attacchio si scoppia e... scoppia... non si scoppia scoppia c'è questo non su il capo sei tempo dai stai staccato eh? aspetta aspetta stai un po' fermo vai attacca è attaccata? si come non scoppia i due vesti? ma stadi chi vuol dire si è rotto? si è rotto, si è rotto all'interno eccolo qua allora io farei così se tu vuoi qui ci si mette sempre questo poi lo puoi mettere diretto lo puoi mettere il problema è che a volte questo qui mi casca siccome non sta fesso lì capito? a volte quando prende una buca casca allora... o se ci fai un aggancio scocciato bene che anche se casca non succede nulla capito? se lo scocci bene non è pesante questo qui capito? lo fa a cascare così a volte casca prende le bucchie amico a volte casca si salta in aria i cassetti si aprono capito? o se me lo attacchi qui con uno scotch mi dai uno scotch capito? ce lo attacco qui capito? ci metto una banda scotch via questo si apre? aspetta leviamo questo qui facciamo così non lo so se si apre quello non penso che si apre no, non credo no, non si apre quello lì qui se me aspetta leviamo vediamo che cazzo è questo qui non la sto facendo che cazzo 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 e non c'è una presa di quella lì? per cambiarla? non si può cambiare quella lì? questa qui dentro? si non puoi cambiare quella e allora? se ce l'hai quella lì? a parte ma non capisco mai si è bruciato perchè ora se io mettessi un'altra volta il suo accendisigare questo qua come cazzo ha fatto questo ha bruciato? che è il suo originale cazzo ciao a tutti volevo prendermi del tempo per... ma che è successo? che fai? eccoci signori eccoci qua questa è la mia nuova presa va bene che fa anche da ricarica ultra veloce comodissima e questa è la presa che si era bruciata e l'abbiamo risistemata quindi signori visto che la giornata è finita la settimana è finita abbiamo agganciato per lunedì per andare a Verona adesso mettiamo anche la targa ripetitrice così lunedì partiamo direttamente in tromba veniamo a piazzare lunedì mattina facciamo aria e partiamo direttamente già agganciati già con tutte le cose ben fatte ora controlliamo anche le bolle vediamo qua il primo scarico ma credo di avere uno solo di scarichi no? quindi meno male è andata anche questa settimana qui qui se ne è andata abbiamo sistemato anche il problema della corrente che ci torturava un po' sapevo che prima o poi sarebbe successo questa cosa qui della corrente l'avevo anche accennato al mio capo guarda c'è una sola presa ah in realtà sono due scarichi a volte sono due bolle ma con il solito destinatario non capisco una è... va bene quindi questa è... è un solo scarico va bene a volte sono due bolle diverse perchè c'è il packing list non lo so come la ragionano loro a me non ci interessa queste cose qui queste piccole cose va bene? quindi siamo pronti per andare un'andia a Verona il camion è fresco il gasolio c'è adi blu c'è e che dire ragazzi ci vediamo la prossima settimana dai buona estate a tutti perchè è ancora estate anche oggi hanno fatto 33 gradi quindi grazie di guardare i miei video e che dire manca il video dei 1000 iscritti ragazzi lo devo fare molto presto ora non c'ho l'ispirazione per fare i video dei 1000 iscritti l'abbiamo già passato il 1000 da un bel po' quindi... buona però ragazzi dai fate un bel finissimo a tutti quanti grazie